musica 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 e bella a tutti ragazzi sono ioliti e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su rainbow6d e a farmi compagnia c'è Thomas o tiger come cazzo volete chiamare voi o non so perchè e playstation mentre parlavo ha detto che vi piace ritario non ha rubato qui no racing nato il pasto e corrett summit exx e lui ha scelto lui non dico il nome perché non nominare tiger in vano è дав avֽ�на capito che ti dice la scrivania beh se l'andavi a dichiè la trovai no ma io prima avevo tutta la camera verde mi ero soffata del verde e ho detto no adesso la voglio far gialla e io come scusa? non si giocare e non voglio neanche io sinceramente da un po' che non ci gioco è da cinca amici non ci gioco tipo no se come andiamo insieme se no non è non è ah no direi è vero metti in sicurezza ok tu che hai intermiti? vado prima io voglio fare un'elettricità non starmi dietro lì? no l'avamo fatto no che palle perché morire subito all'inizio di un ramo io mi chiedo volare come sono volato ah è vero sono volato sì allora vediamo un po' signor come hai fatto a killarmi? ah sei morto anche tu no ma non è neanche il ferrito mi è uscito il sangue l'ho visto io magari c'è il ciclo che mi sai scusa quello è un cadavere bravo ah ah dai no mordio solt e mi è liberato all'esterno gira ti uccidilo coglione c'è proprio mi cerchi e ti giri eh che l'ha? è lì bravo oh ah ma ah ma vabbè ah è sempre il true player figa vabbè eh eh è arrivato lui eh eh esperto in hell shot thomas era lì no volevo io ma mi inculano tutto cos'è che te li ho ancora brave io volevo giù botti ah e credo poverino ah shag ehm no è qua non posso collegarlo vero non voglio collegarmi là sennò qua vai qua mamma mia tattico dietro non le senti dalle cose sono i nostri compagni che sparano thomas sei morto vero? come hai fatto a morire? l'hanno preso tipo una... uno stordenico mi prendi dove sono le scuole? thomas lì c'è una bottla thomas vieni qua thomas che handicappato che sei thomas qui santo dio però è distante riflettore è qua il punto di sicurezza perciò vuoto giù qua ma qua è morto qualcuno questo lo posso uccidere? tornate a occuparvi di questo dopo aver neutralizzato la minaccia ultimo attaccante rimasto ma c'è un ventilatore di giubbotti guarda guarda c'è un ventilatore di giubbotti ok nessuno prenderà i tibotti via per arrivare thomas 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 che vite di merda hanno rinunciato hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore è proprio lui vabbè basta che trovi una superficie dove metterti qua è dentro qua tu sei thomas thomas su ma è dentro lì non lo so sinceramente ma perché se la mettevo su no eh vabbè no dall'altra parte invece ma non sei sicuro ok siamo sotto di loro troviamo una postazione per farti lanciare il fusion thomas non è che si mettono proprio sotto nel punto centrale sei stupido anche tu si metteranno in qualche angolino no? allora lo metto qua bravo thomas sei sempre più furbo eh magari no c'è io lì prima uno l'ho ucciso spostati che ok pronto ora ora spacchiamo gli almi mamma mia io te l'ho detto tu ci vuoi apri e io sono già pronta con la ok giù attività nemica ne ho colma fatta morire ho fatto una doppia vero? ok va bene così va bene così ok io ho fatto una doppia sono felice sono giù sono giù aiuto eh sono morto ma è esploso tipo qualcosa e sono morto il giù eh va bene dai vedeteci un'altra scusa il c4 il c4 mi ha ucciso abbiamo vinto oddio mi sono fortissimo ma la mia tomba è sul 0 e 4 ma come fai? dai erano tanto tempo che non giocavo a re vabbè ragazzi per questo video è tutto se il video vi è piaciuto vi condividete un bel pollicione su condividete il video perchè secondo te sono dei barbuni non li abbiamo iscritti iscrivetevi al canale noi ci vediamo un prossimo video bella bella grazie Thomas per il tuo contributo